Per esempio, no? Voi lo sapete che cos'è una caballa? No, che non lo sapete. E indovinate perché? Perché è una delle parole che non sono ancora riuscita a salvare. Non è mica una passeggiata salvare parole, specie se avete 12 anni, come me. Ad ogni modo, caballa, sostantivo femminile. È quel piccolo grumo di pelucchi e altra roba raggomitolata in palline che si forma ogni tanto dentro l'ombelico. Fino a un po' di tempo fa lo sapevano tutti come si chiamava. Finivano con il ditino nell'ombelico e pensavano che schifo una caballa. Oppure che bello una caballa, giochiamoci. Io faccio parte della seconda categoria. Ci giocavo sempre con le mie caballe. A volte mi ci affezionavo pure. Gli davo dei nomi. L'ultima? Teresa. Simpatica, un po' fermalosa. Ma siamo stati bene insieme.